...cosa succede? ...e... ...cosa senti? ...cosa è il 30? ...ecco volevo chiedervi il 30 di settembre a Venezia ...c'è il successo di ciclo ...c'è appello ...c'è appello e l'assidio di ciclo ...c'è appello ...c'è appello di no ...speriamo proprio di no anche perché ...speriamo proprio di no perché il termo mentale io... ...non conoscevo mai troppo e non conoscevo neanche non li avevo mai visti no ma non erano neanche si no non conoscevo è vero che da quello che ho sentito dire non mi assicurava la persona ... ... ... Grazie a tutti.